Un minuto alla fine del campionato, il Perugia è in vantaggio sullo Juventus per 1-0, la Lazio è vicinissima al suo secondo titolo italiano. Superato da 40 secondi il cinquantesimo, si continua a giocare, la palla sulla destra è Snyder, chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi. Mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto, sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia, 1999, Collina, il Perugia è scattata tutta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Cannetto Nazionale, viva l'Olimpico. E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate, campioni d'Italia. Gli ultimi minuti vissuti via radio, le mani nei capelli ed ora la liberazione davvero sfrenata, è un momento indescrivibile. Grazie a tutti.